133 km, partenza ed arrivo da Segreominio in piano, siamo a Capannori, questo è il comune in provincia di Luca. Benvenuti cari amici telespettatori, il Giro Internazionale di Toscana torna, abbiamo assistito ad un cronoprologo, oggi prima prova in linea Gigi. Sì, una tappa importante dal momento che la distanza è impegnativa, 133 km, due gran premi della montagna nella parte finale, un'altitudine irrisoria, 160 metri sul livello del mare, 2 km al 5%, ma direi che è una tappa per velociste. Anemig Vavloiten è già in maglia rosa, oggi tappa per ruote veloci, poi cos'altro? Direi che la sua squadra è la più forte, la Bigla, sarà sicuramente la squadra che controllerà la corsa, ma attenzione alla Iassiska, della Lecci Pollini, la campionessa polacca, una delle grandi favorite per la classifica finale, le nostre, le nostre tre dei migliori, Valentina Scandolara, una delle cantità della maglia azzurra, insieme a Marta Bastianelli, l'atleta, è che se è campionessa del mondo, di Stoccarda 2007, ha ritrovato la condizione dei tempi migliori, quindi saranno seguite con la massima attenzione del nostro commissario tecnico Dino Salvogli. Ancora una grande giornata dal punto di vista meteo, caro Gigi, ci sono circa 28 gradi, splende il sole, la ventilazione è quella apprezzabile, giusta per rendere più mite, per mitigare un pochino la giornata. Quindi le condizioni sono quelle giuste. Ma noi, prima di vedere questa prima prova in linea, prima tappa in linea del giro di Toscana, facciamo il salto indietro. Questo è il crono prologo, è pronta a partire Sofia Bertizzolo, come rappresentativa del Veneto, la formazione che la vede protagonista. Ma con le immagini in questa sintesi andiamo subito a Danemiek van Vleuten, che ha dato spettacolo, ormai è da qualche anno la regina di questi, il crono prologo. Gigi sui due chilometri è praticamente imbattibile la simpatico olandese. Proprio così Pier Giorgio è la più forte, una grandissima cronoma e tra l'altro ha vinto anche il prologo del Giro d'Italia a Lubiana, quindi grande favorita. La sua pedalata è possente, sta spingendo un rapporto lunghissimo, un rapporto che potrebbe fare la differenza. La vediamo impegnata qua, siamo a Campi Bisenzio, questa è nella prima parte, adesso arriverà, sta spingendo ovviamente alla massima potenza, sta affrontando questo tratto molto molto veloce. Adesso ci sarà una curva 180 e poi comincerà il viaggio di ritorno. Con queste immagini siamo saltati al Ponticelle, qui siamo ai 300 metri conclusivi, vedete come continua a rilanciare, davvero una bella posizione anche per Danemiek van Vleuten. Il tempo naturalmente è a livelli di assoluta eccellenza, guardate, continua nonostante sia ormai 150 metri a rilanciare la velocissima olandese, che tra l'altro viene da un'infortuna abbastanza serio. Ed eccola qua, miglior tempo per Danemiek van Vleuten, 2,54 e 43, è l'unica che è riuscita a scendere sotto il muro dei tre. E questa è la nostra Valentina Scandolara in divisa orica, ma qua è ospitata con la formazione della Top Girl Fassa Borto. Allora anche Valentina Scandolara ormai sta affrontando la parte conclusiva, la vediamo, il suo tempo è molto buono, andrà a piazzarsi alle spalle di Danemiek van Vleuten. Adesso la vediamo negli ultimi 150 metri, Gigi, eccola qua ormai all'arrivo. Sta spingendo fortissimo con un rapporto leggermente più agile, un tempo stupendo, il secondo tempo, quindi seconda in questo momento in classifica. 3-0, 0-0-6, 5-63 da Danemiek van Vleuten e questa è Daiva Tuslaite della Impa, Bianchi Sottori, la forte atleta lituana. Anche lei la vediamo impegnata in questa prima parte con le nostre immagini. Adesso l'aspettiamo nel momento, diciamo così, di quella inversione a 180 gradi, quando poi tornerà nella fase di ritorno in questo circuito cittadino molto suggestivo a Campi Vicenzi. Ormai siamo, lo sapete, una tradizione per questo Giro di Toscana, siamo alle porte di Firenze. E Daiva Tuslaite sta viaggiando sui tempi di Valentina Scandolara, chiuderà in terza posizione a 3-0, 3-0, 2-8, 59 dalla Van Vleuten. E questo è il podio, Gigi. Direi un podio veramente eccezionale, tre delle grandi favorite, ma la campionessa olandese non si è lasciato sfuggire questa grande occasione. La Scandolara si è superata perché ha superato tantissime atlete più forti di lei a cronometro, sta attraversando un grande momento, penso che sia sicuramente una delle azzurre al prossimo campionato mondiale. E allora Van Vleuten, Scandolara Tuslaite, questo è il podio, ovviamente identica alla classifica generale che scaturisce dopo questo cronoprologo. Con queste immagini invece siamo ad oggi, questa è la chiesa della Santissima Vergine Addolorata. Queste sono le immagini della messa in memoria. Vedete Brunello Fanini con l'assessore allo sport del Comune di Capano, Risseterina Feriani, in prima fila. Naturalmente è la commemorazione della cara Michela. Michela Fanini riposa nel cimitero a poca distanza da questa chiesa. Sono momenti sempre molto emozionati, anche se ormai sono passati 21 anni. Sì, una grandissima campionessa, come ha ricordato Michela Fanini, vincitrice nel 94 del Giro d'Italia Donne. Una grandissima atleta, una grandissima figlia di Brunello. E qua le emozioni forti, vediamo, continuano perché c'è la Fassavortolo con il papà di Chiara, Piero Bonne Gianni. Piero Bonne che viene omaggiato di questo quadro. Ma andiamo ad ascoltarlo Gianni Piero Bonne. Voglio dire solo una cosa, rimarrà sempre tra di noi e con loro nel mondo del ciclismo, anche se non c'è fisicamente, però penso che nello spirito rimanga sempre. Spero che questo possa anche aiutare questo mondo, perché questo mondo è un mondo che spererei potesse continuare a ampliarsi e via dicendo. Certo che la mancanza, ormai io non posso più farci niente, noi non possiamo più farci niente, è mancata. Speriamo che ci possa aiutare tutti. Non ho altro, cioè ringrazio anche Fanini per l'invito, per questo bellissimo quadro assieme a sua figlia. e oggi posso dire che saranno i semi lì che ci guardano. Ma non sono l'ora per la camera. Insomma, dicevamo Gigi, momenti davvero di autentica commozione. Sì, è presente anche la madre Federica, il fratellino Matteo. Veramente una vera tragedia. Mentre si accinceva a trasferirsi in Germania, lungo l'avodostrada, proprio alle porte della Germania, un malore, un malore ce l'ha portata via improvvisamente. Improvvisamente quindi una tragedia per il ciclismo, per il ciclismo, ma per tutti coloro che l'hanno conosciuta rimarrà sempre nel nostro cuore. Una grandissima treta scalatrice, tra l'altro con grandissimi margini di miglioramento. E queste immagini si soffermano anche sulla moglie del patron Fanini, Giulietta, premiata da Rino Mota, nostro ex collega Rai. Adesso andiamo ad ascoltare Annalisa Cucinotta e Valentina Scandolara. Ci proveremo sicuramente. C'è poco spazio tra la fine di questo strappo e l'arrivo, però cercheremo di dar battaglia, di stare avanti. In caso di arrivo in volata cercherò sicuramente di dire la mia e vediamo come andrà insomma. Tu per la tappa, la Yaziska per la generale? Sì, sicuramente. Punterò a prendere secondi, sia nel traguardo volante che magari all'arrivo. Vediamo se è possibile perché la Nemic è una squadra veramente forte, però trocontare sulle mie ragazze in presidio della Top Girl sono sicura. E certo, come dicevi prima, le gare di fine stagione sono diciamo le più importanti perché vestire quella maglia azzura ai mondiali è il sogno, l'obiettivo di ognuna di noi. Quindi spero di meritarmi Richmond e spero di fare bene questi ultimi due giorni. Volgiamo lo sguardo indietro. Secondo solo dietro a quel mostro di Nemic Van Vloeten che sappiamo che su questi 2000 metri è praticamente imbattibile. Avevi nelle tue corde di fare questa prestazione o ha sorpreso anche te? Ma i prologhi mi stanno piacendo sempre di più, voglio cominciare a prepararmi perché vedo che è una cosa che mi riesce bene. Ovviamente la Van Vloeten sapevo che, a parte l'incidente che ha avuto, sapevo che sarebbe stata forte ugualmente. Quindi per me, come ho detto ieri, è una vittoria. Però non è mica finita qua. Allora Gigi, poi torneremo e ci soffermeremo a lungo sul argomento nazionale perché martedì a Milano verrà presentata la formazione che andrà a difendere i nostri colori negli Stati Uniti a Richmond. Ma intanto queste sono le immagini della partenza, adesso ci sarà il solito giro turistico e poi assisteremo anche al chilometro zero. Allora sentivamo a Valentina Scandolara parlare anche degli a buoni. Lo ricordiamo, 10-6-4 per la vittoria di tappa e per il traguardo volante sono 3-2 ed un secondo. Però attenzione, solo il traguardo Michela. Michela Fainisi, infatti la prima 10, secondi da buono, la seconda 6 secondi e la terza 4 secondi. E allora, ecco le atlete che stanno praticamente passando attorno alla chiesa della Santissima Vergine Addolorata. Adesso le vedremo sfilare davanti, abbiamo visto anche la campionessa etiope della formazione della Michela Fainini, la Kelil, Jerusalem Kelil, esponente di quel mondo africano che nel ciclismo Gigi sta cercando di guadagnare sempre più spazio anche ai vertici. E' proprio così Pier Giorgio, ma senz'altro vediamo che stanno fremendo un po' tutte le atlete. Ci sarà una partenza sparata come sempre, l'abbiamo visto anche nelle recenti gare femminili. Ed eccola qua, Mich van Vloyten, in maglia rosa. Sì, in maglia rosa che sfoggia nella testa del gruppo. Sono i primi 90 chilometri completamente pianeggianti, per cui penso che ci sarà altissima velocità. Ma questa è una tappa per velociste, per cui ci saranno le squadre che hanno le velociste più forti, controlleranno la corsa, molto difficilmente concederanno dello spazio alla trete che vogliono tentare un attacco da lontano. Altro momento molto toccante, la sosta del gruppo, della carovana al cimitero di Segromigno, dove riposa la povera Michela. Adesso vedremo la cerimonia. Tutte le atlete qua sono schierate, ovviamente oltre che tutte le componenti della Michela Fanini, anche le maglie con le autorità, rivediamo anche Gianni Piero Bon, la mamma Federica, Matteo. Insomma, ancora un momento di grande, grandissima emozione. Sì, anche per la trete è un momento toccante, questo, prima dell'appartenza di questa tappa importantissima. Ogni anno vediamo queste scene, Gigi, che sono sempre molto molto partecipate, segno che, insomma, nonostante siano passati davvero diversi anni, ne sono trascorsi 21, insomma, il ricordo è sempre molto sentito e questo è il momento di raccoglimento. Sì, il ricordo è sempre vero. Con il silenzio. Michela è sempre nel cuore di tutti gli appassionati di ciclismo, per cui non verrà mai dimenticata. E adesso con le immagini, vedete, con questo applauso di salute, di commiato, ci spostiamo nuovamente sulla corsa. Adesso, rapidamente, le atlete si porteranno al chilometro zero, che è poi sulla linea dell'elettraguardo, e poi sarà corsa vera, Gigi. È corsa vera, ecco, dal momento in cui ci sarà la partenza ufficiale, qui vediamo proprio Brunello Fanini, sulla miraglia, pronto per dare il via in questa prima tappa, che presenta questi 133 chilometri e 600 metri, prima parte completamente pianeggiante, la seconda parte, la prima parte in circuito di 34 chilometri, da ripetere due volte, la seconda parte, il circuito più duro, che presenta proprio la salita di Secromigno in monte, altitudine di precisamente 126 metri, sono questi due chilometri con una pendenza media del 5%, quindi una salita che si può fare anche con un rapporto abbastanza lungo, anche le velociste penso che non abbiano problemi per superare questa salita. Ed eccole, sono tornate al momento del chilometro zero, ancora alcuni istanti e poi, dicevamo, ci sarà subito battaglia, vedete, è pronto, patron Brunello a sventolare la bandiera a scacca, eccole, qua sono partite. Dicevamo della maglia rosa della campionessa olandese Annemiek van Vleuten, che purtroppo per lei è reduce da un brutto infortunio capitato a Livigno, mentre era in ritiro, ha dovuto subire la frattura della clavicola, e noi dal punto di vista fisico davanti intanto vediamo Anna Maria Zita Stricker, la forte atleta bolsanina della Impa sottoli bianchi. Dicevo, a proposito di Annemiek van Vleuten, insomma questo contrattempo che naturalmente le ha impedito di proseguire in maniera regolare nella preparazione, purtroppo la terra fuori anche dalla nazionale olandese per quel che riguarda i mondiali, e l'abbiamo vista sinceramente oggi, era abbastanza disturbata per questo. Sì, anche se Pier Giorgio, devo dire che non ha problemi la nazionale olandese, la nazionale è più forte, più forte perché presenta dell'atlete come la van der Bregg. Tanto abbiamo visto Anna Trevisi che ha rischiato di abbracciare la nostra moto, per fortuna non è successo nulla. Ci vuole la massima attenzione, non bisogna mai distrarsi, anche se quest'anno non ci sarà la Voss, la Voss quest'anno si è presa una pausa, se possiamo dire così, proprio per puntare tutta la prossima stagione, punta forte ai giochi olimpici del Brasile, ma ci sarà la Lucinda Brand, un'altra grandissima atleta, saranno sicuramente le olandese le grandissime favorite per quanto riguarda il campionato mondiale su strada femminile, che si svolge a Ricciamonte negli Stati Uniti d'America il giorno 26 settembre, mentre a seguire il giorno dopo ci sarà la prova più attesa, la prova dei professionisti il 27 settembre. E intanto con queste immagini siamo intorno al chilometro 10, il gruppo è compatto, immagini molto suggestive che sottolineano, quanto dicevamo in apertura di Telecrona, che a Gigi questa parte della Toscana è verde, molto molto verde, avete visto fare bella mossa dei pini marittimi, e questo bel cielo azzurro ovviamente accompagna sul percorso il gruppo che adesso ha cominciato ad aumentare l'andatura fin dalle primissime pedalate, lo avevamo detto, ma ormai è sempre così, insomma partono sempre a tutti. Sì, le strade della Lucchisia sono strade per ciclisti, basti ricordare uno su tutti, Mario Cipollini, anche se è campione del mondo, uno dei più grandi velocisti di tutti i tempi, ma qui ci sono anche i tantissimi campioni stranieri che scelgono proprio queste strade per gli allenamenti, quindi questa è terra di ciclismo. Allora, entriamo intorno al chilometro 13, ancora un passaggio sotto la linea del traguardo, abbiamo visto la campionessa etiope della Michela Fanini Record Rocks, la Jerusalem e Lille guidare il gruppo, adesso ancora c'è stata un'accelerazione, vedete si stanno allungando, continua davanti ad impegnarsi sempre l'atleta africana, che lille Jerusalem e poi vedete via via tutte le altre, adesso si stanno un pochino allargando, ma per il momento ovviamente non c'è la possibilità di azioni in solitaria. Vediamo davanti ancora l'alta tesina con il dorsale 77, Anna Maria Zita Stricker. Sì, c'è controllo, in questo momento ci sono proprio questi atleti che hanno le velociste in squadra, stanno controllando la corsa, anche se ritmo intorno ai 38-40 km orari, e soprattutto proprio la squadra della Bianchi, vedo precisamente della Stricker, era la squadra, la tre da Bolsa Nina, una delle sicuramente più forti in gara, tra l'altro giovanissima, con grandissimi spazi di miglioramento. Sì, adesso a dare una mano davanti anche l'altra giovane spagnola, la Sant Esteban, sempre della Impa Bianchi e Sottoli, con queste immagini stiamo ancora saltando, siamo sempre nella prima parte, come dicevi tu Gigi, questo è un percorso per ruote veloci, perché le due ascese a Segremigli in Monte, certo non possono, anche se sono state classificate come GPM di seconda categoria, non possono certo preoccupare atleti di questo livello. Assolutamente, tornando alla Impa Sottoli-Giusfredi, presentano Valentina Bastianelli, proprio la tre da Bolsa Nina Anna Stricker, e l'altra giovanissima Claudia Gretti, grande rivelazione del Giro d'Italia femminile. E intanto con queste immagini siamo saltati intorno, al chilometro 33 si sta per avvicinare il traguardo volante, ecco lo sprint che viene lanciato del traguardo volante, attenzione, davanti vediamo Valentina Scandolara, ma c'è un bel testa a testa, Valentina Scandolara sta salendo anche la sua compagna di squadra giornaliera, Soraya Paladine, lo ricordiamo che la Fassavorto ospita appunto la Scandolare, in una squadra mista, attenzione, ma ha preso decisamente la testa Soraya Paladine, anzi chiedo scusa, questa è Maria Giulia con fallo nere, eccola la Soraya Paladine, adesso c'è Valentina Scandolara alla sinistra del teleschermo, va a chiudere in prima posizione questo traguardo volante, Soraya Paladine con Valentina Scandolara che si classifica alle sue spalle. Sì, è una bella volata, c'è stata quindi questo è un antipasto, adesso la corsa sta entrando nel vivo, cominciano la serie di attacchi con il dorsale 74, Anna Trevisi, sempre dell'Inpaso, togli i giusfredi, stanno cercando di fare la corsa dura, quindi per mettere in difficoltà le atlete più veloci. Allora, la ruota veloce, la velocista Mantovana, vedete, sta cercando di portare via questo quartetto, c'è a darle manforte la sua compagna di squadra, con il dorsale 78, Claudia Cretti, ma vedete il gruppo dietro, non mola di un centimetro, sono andate prontamente a chiudere quelle della Cipollini, e adesso con le immagini torniamo ad un altro passaggio, sotto il traguardo siamo al chilometro 35. Sì, un panorama sulle squadre più forti in gara, Pier Giorgio, cominciamo con la Lecci Pollini, con il numero uno, la Jansiska, la campionessa polacca, una delle grandi favorite per la classifica finale, a seguire la nazionale russa, la rappresentativa veneta, che presenta una squadra in maggioranza tutta atlete juniores, quindi è la prima esperienza con le atlete elite, la nazionale slovacca, la precisamente Michele Fanini, record rocks, la squadra di casa, presenta l'Ara Vieceli, una treta molto forte, si difende molto bene, seita anche in volata, quindi potrebbe essere oggi una delle grandi favorite, la squadra è diretta da Giuseppe Lanzoni, mentre addirittura c'è la squadra del Sudafrica, queste squadre, soprattutto queste squadre straniere, sono venute proprio in questo giro della Toscana, questa grande premontiale, è una gara a tappa di tre giorni, proprio in preparazione per i campionati mondiali, che si svolgono negli Stati Uniti d'America. E ad ora, con queste immagini, siamo intorno a chilometro 44, adesso vedete, è riuscita, dopo diversi tentativi, ad andare a prima fuga, il vantaggio è intorno ai 10-12 secondi, vediamo subito la composizione, adesso davanti c'è la scalatrice Vicentina, Elena Berlato, poi Lara Vieceli, Anna Trevisi, Sara Grifi, con il dorsale 68, poi Katia Ragusa, e con il dorsale 62, la Martini. La Ghiro Forno d'Asolo, presenta una squadra con tutte, a tre dei stranieri, tra l'altro ci sono anche due italiane, la Dotti e la Mancini, quindi avevo detto tutte, tutte le squadre straniere, mi correggo, mentre la Arom Italia, a Vaiano Fondiest, presenta veramente Marta Bastianelli, in grandissima forma, recentemente ha partecipato in una gara a tappe, che si è svolta in Olanda, 10 giorni orsono, ottene una gara a tappe di 5 tappe, ottenendo due secondi posti di tappa, e un secondo posto lusinghiero, per quanto riguarda la classifica generale. E questa è invece, come vedete dalla inquadratura, è il gruppo che sta andando ad inseguire, abbiamo visto la maglia rosa di Annemiek van Vleuten, poi con il dorsale 101, l'episto, insomma c'è tutta la bigla, lì davanti ovviamente a scortare, la olandese capoclassifica. Sì, la Top Girl, diretta da Lucio Rigado, presenta, direi che questi atleti di questa squadra, sono tutte forti, li ricordo tutte, anche sfortunatissimi. Intanto Gigi, come abbiamo visto da queste immagini, la fuga ha avuto termine, comunque rimane davanti, sempre a pedalare insieme alla Jerusalem, Anna Trevisi, della Impa Bianchi Sottoli. Sì, sfortunatissimi colleghi, perché lungo il viaggio, per andare a correre questa prova di Coppa del Mondo in Australia, erano presenti insieme, proprio alla sfortunatissima, Chiara Piero Bono, le ricordo con grande affetto, Irene Bitti, Nicola Del Santo, Sara Grifi, Elena Leonardi, Asia e Soraya Paladina. Fa parte di questa squadra, un'eccezione che ha consentito la giuria internazionale, anche Valentina Scandolara, che è il gruppo sportivo suo, di appartinenza e lorica alla squadra australiana. Sì, hai ricordato proprio questo terribile episodio, accaduto lo scorso 2 agosto, mentre la formazione di Lucio Regato stava, recandosi a correre la prova di Coppa del Mondo in Germania, lo sparcasse in giro, e purtroppo è davvero arrivata improvvisa questa notizia terribile. Torniamo adesso a seguire, vedete sempre davanti, la campionessa etiope, la Jerusalem e Lille, con dietro Anna Trevisi, e poi tutto il resto del gruppo, che sta procedendo in questa fase a ranghi compatti. Concludo con le squadre, la Servetto, la Servetto anche qui c'è stato un abbinamento per l'occasione, con la Lotto Sudale, presenta tutte le atleti, ci sono tre italiane, c'è la Sofia Cilenti, Michela Pavin, Gaia Tortolina. Per quanto riguarda la Bigla, è la squadra della Vanovloyten, la squadra più forte, la squadra più forte sicuramente sarà la squadra che vedremo in testa, infatti sono già in testa due delle atleti, che stanno per controllare la corsa, quindi la squadra più forte che è presente al Giro della Toscana, c'è la nazionale israeliana, e questa è una grandissima novità, la nazionale ungherese, la nazionale della Repubblica cieca, la Stana, tra l'altro con il ritorno di un grande manager del ciclismo, colui che ha sempre creduto nel ciclismo femminile, Maurizio Fabretto, la squadra è diretta da Aldo Piccolo, mentre per quanto riguarda l'Impi, Sottoli e Giusfredi ne abbiamo già parlato, la squadra diretta da Pietro Cesari. Allora Gigi, dicevamo appunto della nazionale, ormai ci siamo, sta partendo l'operazione Richmond 2015, ci sarà martedì 15 settembre, martedì prossimo, Milano, la presentazione delle formazioni azzurre, che andranno appunto a difendere i nostri colori, cominciamo a dare uno sguardo alle scelte, del nostro commissario tecnico Dino Salvoldi. Allora partendo dalle junior, intanto con la maglia rosa davanti, sta per iniziare con queste immagini, siamo saltati all'ultimo giro, il giro conclusivo, con la maglia rosa che ovviamente va a controllare in prima persona. Dicevamo, andiamo a dare uno sguardo, cominciamo a fare anche qualche nome. Siamo in vista del sonno della campana, questo è il sonno della campana dell'ultimo giro, vedete si stanno impegnando, siamo a 50 metri ormai dal passaggio, e qua appunto comincia. 25 chilometri all'arrivo, quindi qui c'è stato un traguardo volante importante con gli abboni, con gli abboni vinto proprio da Maria Giulia con Falunieri, 3 secondi da buono a lei, al secondo posto Valentina Scandolare, 2 secondi da buono, al terzo posto la 2 slide con un secondo da buono per lei. E adesso vedete si stanno rimescolando le carte, allora dicevamo, parliamo di nazionale Gigi perché ormai ci siamo, allora il gruppo delle junior è praticamente ufficiale, sarà composto da Sofia Bertizzolo, Elisa Balsamo, Katia Ragusa, la Bertizzolo e la Ragusa le vedremo protagoniste anche in questo giro di Toscana, Chiara Zanettin, Nadea Quagliotto, Lisa Morzenti, intanto il gruppo vedete è molto allungato con Lavaiano Fondres che sta facendo adesso l'andatura, Lisa Morzenti dicevo va a chiudere queste magnifiche 6, la Morzenti e la Bertizzolo saranno impegnate anche nella prova a cronometro, mentre per quel che riguarda le Elite, che ovviamente sono quelle su cui puntiamo maggiormente la nostra attenzione, ci sono quattro nomi che sono praticamente certi e sicuri, cioè Giorgia Bronzini, Elena Cecchini, Elisa Longoborghini e Tatiana Gudersi, intanto cominciamo da questa Gigi. Qui siamo intanto nella parte finale, siamo a circa 15 chilometri dell'arrivo, tutto Lavaiano Fondres in testa al gruppo, questo significa che sicuramente sono tutte per lavorare con Marta Bastianelli, tra l'altro velocista anche lei, una delle grandi favorite per la vittoria di tappa. Noi Pier Giorgio per quanto riguarda Dino Savoldi siamo messi veramente bene, penso che sia il più grande tecnico per quanto riguarda il ciclismo femminile di tutta la storia, un commissario tecnico vincente, ha portato tantissime medaglie alla nostra federazione ciclistica italiana, approvo tutto, forse anche problemi di abbondanza per quanto riguarda la squadra Elite, dal momento che abbiamo veramente delle grandissime atleti, sono al pari delle più forti al mondo, come Elisa Longo-Borghini, Giorgia Bronzini, tra l'altro due volte campionessa del mondo, Elena Cecchini, in grandissima crescita sul percorso americano, penso che possa fare molto bene, perché non è completamente pianeggiante o ondulato, ci sono anche strappi di un chilometro con pendenze dal 10 al 12%, abbiamo Valentina Scandolara, in grandissima condizione, Marta Bastianelli, Tatiana Guderzo, una garanzia, Silvia Falsecchi, Maria Giulia Confalonieri, quindi qui c'è proprio un problema d'abbondanza. Insomma, di quelle che hai citato, ce ne sono tre che hanno già vestito l'iride, non mi pare poco, Gigi. La Valsecchi correrà la crono, la prova contro il tempo, ma è anche in lizza per strappare una delle sette maglie che appunto saranno del tradizionale colore azzurro a Richmond e poi abbiamo detto le altre che si giocano i tre posti restanti Scandolara, Guarischi, Confalonieri, Ratto e appunto Marta Bastianelli l'hai già citata. A proposito del percorso di Richmond, tu hai già detto un percorso che presenta un finale abbastanza difficoltoso, in particolare sono gli ultimi cinque chilometri che hanno in programma questi tre strappi, l'ultimo chilometro è al 6%, uno strappo del 6%, poi ai 500 metri la strada, diciamo così, diventa una sorta di falso piano in leggerissima ascesa, tanto per fare un esempio potremmo dire che ricorda il percorso di Valkenburg, anche se meno duro di quello olandese, ma insomma abbiamo grossissime chance da poterci giocare. Sì, grossissime chance perché noi abbiamo veramente queste ragazze, le quali sono le più forti, corrono tutte con squadre straniere perché sono le squadre straniere che hanno un grandissimo budget, sono tutte succursali delle squadre Pro Tour, Pro Tour dei professionisti, sono organizzatissime, l'abbiamo visto. Pier Giorgio al Giro d'Italia Rosa, organizzato da Giuseppe Rivolta, rivolta all'organizzazione di queste squadre, hanno veramente cosa che non hanno le nostre squadre italiane, se forse scudiamo in parte la Lecci Pollini che sta cercando di crescere anno per anno, è un vero peccato. Io mi auguro che gli sponsor, gli sponsor che è amanti del ciclismo e che secondo me ci sono tutti gli ingredienti per ritornare a sponsorizzare il grande ciclismo. Il settore femminile è in forte crescita in tutto il mondo, le corse vengono seguite in tutto il mondo, ma anche questo è un problema che riguarda anche il ciclismo professionistico. Quindi che ritornino i grandi sponsor, perché noi abbiamo grandi campioni, sia nel settore femminile che nel settore mastile. Basti pensare a Vincenzo Nibri e a Fabio Aru, fanno parte di quella rosa di 5-6 atleti il più forte al mondo per quanto riguarda le gare a tappe, ma ci sono anche ragazzi che stanno crescendo per le gare di un giorno. Uno su tutti, Diego Ulissi, che ritengo uno dei grandi favoriti per quanto riguarda il campionato mondiale, uomini. Allora, vedete da queste immagini la Impa Bianchi in grande spolvero a guidare questo gruppo, torna Anna Trevisi davanti che è andata a dare il cambio alla forte atleta, la giovane spagnola San Testeban, Gonzales San Testeban è classe 1990 e poi diciamo tutte le altre. Adesso anche la nazionale sudafricana prova a farsi vedere, sta salendo la rappresentante del Sudafrica, la Charlene Desprez, poi Carla Oberosler, poi intravediamo anche nelle primissime posizioni per evitare qualsiasi tipo di sorpresa, vista appunto che la classifica è cortissima, la maglia rosa di Annemiek van Vleuten. E adesso invece, vedete, ci prova con questa possente pedalata, l'atleta con il dorsale numero 99, sempre della Bigla, Vera Kedoder, l'esperta olandese che sta cercando di allungare, vedete ancora, Maglie Bigla, adesso guardate come la Impa sta cercando di fare il possibile per andare a controllare in questo frangente la corsa e Iris Sleipandel ha provato ad allungare subito e immediatamente a chiudere Angela Maffeis e poi via via stanno arrivando tutte le altre. Adesso Gigi è davvero difficile poter mandare in porto un'azione isolata. Sì, infatti perché c'è la Bigla in testa del gruppo che sta imponendo un ritmo altissimo, proprio questo è un ritmo che può dar fastidio a coloro che magari hanno intenzione di attaccare dal momento che stanno difendendo la maglia dell'olandese, della campionessa olandese, che il ritmo adesso è veramente altissimo, siamo intorno ai 45 km orari, siamo in vista delle prime rampe della salita che porta Scrognamiglio in monte, altitudine 126 metri, 2 km di salita, pendenza media del 5%. E intanto, mentre commentiamo queste immagini e questa sintesi, Gigi, che i nostri telespettatori vedranno a partire dalle 22.10 su Rai Sport 1, arriva una notizia, ci permettiamo questa digressione perché è davvero una grande, grandissima notizia, Fabio Arun è riuscito a vincere, è riuscito a vincere la borsa. Una grandissima notizia, veramente grande Fabio, ho sempre creduto in questo ragazzo, dalle categorie minori, per cui una grandissima soddisfazione, anche si era messa un po' male, soprattutto io ero un po' scoraggiato, scoraggiato perché Fabio ha dimostrato anche in questa volta una forte crescita, una forte crescita, l'aveva già dimostrato l'anno scorso, partecipando alla volta, sta vincendo due dappe, un quinto posto lusinchiero in classifica, quest'anno si è superato, è stato grandissimo, per cui una grande soddisfazione per il ciclismo italiano, quindi è veramente un giorno di festa per tutti noi appassionati di ciclismo. E allora Bigla attivissima davanti, adesso Annemich Van Vloeten lancia l'episto per cercare di tenere chiusa la corsa, vedete come è allungato il gruppo in questa fase, insomma la Bigla non molla di un centimetro, Gigi. Sì, è una squadra organizzata, tutta atleta fortissime, che vanno forte sul passo, sono capaci di stare in testa al gruppo e condurre a 50 km orari, c'è un attacco di un'atleta della Alecci Pollini, se riusciamo a vedere il dorsale, stanno cercando anche loro di fare la corsa dura, dal momento che hanno Annalisa Cucinotta, vincitrice di una grandissima tappa al Giro d'Italia, l'atleta friulana, anche lei un grande ritorno al ciclismo, ha ritrovato la grandissima condizione dei tempi migliori. E intanto questa è Xenia Dobrinin della Stana H2O che sta cercando di allungare, ha preso la testa, ha guadagnato una ventina di metri dal gruppo insieme alla Porta Colori della Cipollini e Ale Galassia, vedete hanno fatto questa S, sono entrati in questa S, Beatrice Rossata adesso che è andata a dare il cambio all'atleta alla Forte, atleta russa Dobrinina, ma il gruppo è sempre lì, provano ad alimentare ancora quest'azione, ma temo che per loro non ci sarà grosso spazio perché naturalmente il gruppo adesso non molla la presa. Sì, infatti il gruppo è vicinissimo, stanno controllando l'attacco delle due fuggidive, infatti sta rivenendo un'atleta sulle due attaccanti, ma il gruppo lì è da appena 100 metri. E allora Beatrice Rossato va a dare il cambio alla Dobrinina, adesso è arrivata anche una ragazza della Top Girl Fassa Bortolo a Darman Forte alle due, se non vediamo male dovrebbe trattarsi dal Santo, le tre ragazze stanno cercando di allungare, sono adesso una settantina i metri di vantaggio che sono riuscite ad acquistare, vedete, prova a rilanciare l'azione ancora la russa Xenia Dobrinina. Sì, Beatrice Rossato, giovanissima, tra l'altro il primo anno nella categoria Elite, classe 96, la squadra di Alessia Piccolo, sta cercando proprio magari di fare da punto d'appoggio sulla sua compagna di squadra, la velocista Annalisa Cucinotta, quindi potrebbe essere importante questo attacco, proprio in vista delle prime rampe della salita, mentre il gruppo adesso è tutto allungadissimo, stanno cercando di rivenire sulle atlete attaccanti, devono chiudere uno spazio di appena 50 metri. E allora abbiamo visto anche Soraya Paladin nelle primissime posizioni, ma vedete dietro sono andate immediatamente a chiudere, adesso stanno tornando fuori ovviamente un po' tutte, un'atleta della formazione russa, la Chulkova, davanti a guidare questa avanguarda del gruppo molto allungato, siamo intorno ai 11-12 chilometri alla conclusione. Il gruppo si è allargato davanti e ovviamente ci sono tutte le atlete più importanti. È un momento di studio, c'è un'atleta della Bigla in testa a fare l'andatura, è un momento un po' di rifiaddare un po', perché ci sono stati una serie di allunghi a 50 chilometri orari, ora è l'atleta proprio in vista delle prime rampe della salita, stanno cercando di recuperare di nuovo un attacco. Sì, ci riprova ancora una volta la Kedoder, compagna di squadra di Annemiek van Vloyten, la statuaria atleta olandese Vera Kedoder, dorsale 99, adesso si è lanciata alla sua ruota, ad andare a prendere la sua ruota, vediamo l'atleta russa con il dorsale 18, Jacovenco, quindi le due stanno provando ad alimentare questo tentativo, questo nuovo tentativo di fuga, in avanti sta pedalando adesso la Jacovenco con la Kedoder alla sua ruota. Sì, hanno un leggero vento contrario, vediamo la difficoltà di rullare bene il rapporto, un rapporto lunghissimo, due atleti che vanno molto forte sul passo, soprattutto l'olandese ha una stazza fisica da grande passista. Jacovenco, Kedoder, per loro una cinquantina di metri di vantaggio, davanti vediamo maglie della Le Cipollini-Galassia, naturalmente la Le Cipollini-Galassia con la Janziska, il dorsale numero uno farà il possibile per andare a difendere il bel successo dello scorso anno dell'americana che vive in Spagna, Shelly Holtz. Sì, è la russa che rilancia l'azione in questo momento, il gruppo sta controllando la situazione, sempre a 100 metri, ma in due non vanno molto lontano, dal momento che quando ci saranno le accelerate da parte del gruppo, dovrebbero perlomeno guadagnare, il gruppo è lì vicino, dai 300 ai 400 metri, per avere qualche possibilità di riuscita. Allora, Kedoder è davanti, ma vedete il gruppo sta rapidamente chiudendo, Kedoder con Iacovenko alla sua ruota, e la Bigla ha ovviamente l'obbligo di andare a controllare a questo punto la corsa per difendere la maglia rosa di Annemiek van Vleuten. E siamo con queste immagini circa a 7 chilometri dall'arrivo. Sì, si avvicina proprio la salita, l'accordo è perfetto, è perfetto, ma il gruppo è lì che sta per annullare la fuga delle due attaccanti, ecco, vediamo qui la collina che si avvicina, quindi da un momento all'altro già la strada comincia a salire leggermente, la pentenza è del 2% in questo tratto, presto arriverà il tratto più impegnativo della salita. Vera Kedoder è olandese classe 1983, quindi si tratta di un'atleta esperta, ma vedete che in questa fase sotto l'incedere, e grazie anche a cambi regolari con Iacovenko, le due sono riuscite a guadagnare un 150 metri, Gigi. Sì, 150 metri, ma adesso in vista proprio del gruppo, soprattutto delle atlete veloci, sicuramente saranno i gregari di queste atlete, andare in testa al gruppo e cercare di dare il tutto per tutto in appoggio alle compagne di squadra. Allora, sempre Kedoder e Iacovenko, eccole qua inquadrate, è la Russia che sta facendo in questa fase l'andatura, vedete la strada adesso comincia a salire, vedremo il passaggio a questo ultimo GPM e poi ci sarà spazio solo per la discesa verso il traguardo. Qui intanto siamo proprio alla località Segromigno in Monte, proprio dopo questo rettilineo comincia la salita. Allora, questo viale alberato, vedete che sta facendo da cornice alla azione, alla prova di Evera, Kedoder, olandese della Bigla e della forte atleta russa, con il dorsale 18 Iacovenko. Il gruppo adesso è tornato a farsi sotto, si è riportato a una cinquantina, 70 metri non di più, è la strada adesso in questo momento comincia a salire. È la Iacovenko che adesso sta cercando il tutto per tutto. Sì, con un rapporto un po' troppo lungo, a mio avviso troppo duro, farebbe meglio mettere un rapporto più agile. Tra l'altro un'atleta, la Iacovenko, giovanissima, classe 95, quindi ventenne, direi che è un'atleta che dimostra di essere molto, molto forte, un'atleta sicuramente proiettata al futuro. Anastasia Iacovenko è ripresa, in questo momento lo era già stata, Vera Kedoder, il gruppo delle migliori. Torna ancora compatto in vista dell'ultimo GPM del passaggio a Segromigni in Monte. Davanti tornano a vedersi le maglie della Impa Bianchi, poi vediamo anche la Michela Fanini-Rox, insomma c'è battaglia lì per cercare di andare a conquistare le migliori posizioni, vediamo tra le prime, sicuramente anche la Jasinska, insomma stanno cercando di mettersi nella situazione migliore possibile per andare a disputare comunque questo sprint per il secondo GPM di giornata. Sì, come si vede, sono tantissimi, ancora è l'atlete, sono circa 100 atlete che sono rimaste insieme delle 116 partite. L'andatura in questa salita è intorno ai 22-25 km orari, coloro che sono nelle prime posizioni, non davanti a prendere il vento, ma dalla decima posizione in poi, faticono sicuramente molto meno di coloro che stanno in testa adesso al gruppo a prendere il vento in faccia. c'è stato già un passaggio su questa salita, Pier Giorgio, nel primo passaggio Gran Premo della Montagna ha vinto il Gran Premo della Montagna la Tuslaide, e al secondo posto la Viesceli, la treta di casa della Michela Fanini Record, e al terzo posto una delle grandi favorite per quanto riguarda la classifica finila, finale la Jasinska, la treta della Alecci Pollini. E allora, adesso ormai siamo in prossimità del passaggio al GPM, vedete che continuano a rilanciare l'azione, davanti anche Lara Vieceri, l'abbiamo vista ripetutamente provarci, questa invece con il dorsale 33, Sofia Bertizzolo, della rappresentativa del Veneto, la forte atleta junior, che adesso ovviamente si sta affacciando al mondo delle élite, insieme a Sofia Begine, hanno dominato in lungo e largo la categoria, e promette di fare altrettanto molto molto bene al piano superiore. Ma intanto andiamo a vedere, con il dorsale 19, che prova ad alimentare ancora l'andatura, un'altra atleta russa, si tratta della Vasilieva. Sì, la Vasilieva anche lei è giovane e ventenne, quindi il ciclismo russo femminile è in forte crescita nel settore donne, cosa che manca in questo momento nel settore professionistico, sono un po' in crisi i russi, siamo proprio in vista qui dell'attacco per il Gran Premio della Montagna, ci sono le atlete più forti in questo momento, che si sono avvantaggiate leggermente, ma vedo che l'andatura è sempre veloce, per cui adesso stanno rivenendo anche le atlete, e le atlete che si erano leggermente staccate, sono rimaste circa 70 atlete. E allora, Iasinska, Tuzlaite e Vieceli, questo è il passaggio al GPM, adesso siamo all'incirca ai meno 3 km dal traguardo, attenzione perché naturalmente la sede stradale approfitta, le atlete approfittano per allungare in questa discesa che riporterà il gruppo a Segrominio in piano dove è posto il traguardo. Sì, ci sono due o tre curve tecniche, però direi che hanno già vista la discesa, sanno come affrontarle, è chiaro che io consiglio sempre, questa è una delle curve un po' più insidiosi, di usare la massima prudenza, ogni tanto bisogna toccare anche i freni, e quindi non si possono fare le curve insidiose a tutta. E allora, ormai ci siamo, siamo nella fase decisiva di questa prima tappa in linea con partenze d'arrivo a Segrominio in piano di questo Giro della Toscana, Memorial, Giro internazionale della Toscana, Premondiale Memorial, Michela Fanini, vedete tutte le migliori in questo tratto in discesa, naturalmente il gruppo si è ulteriormente spezzato e frazionato, Gigi. Sì, direi che il gruppo è rimasto sempre alluncatissimo, ma al momento in cui si arriva nel tratto pianeggiante di circa 1.500 metri, adesso attenzione che c'è un buco, si è avvantaggiato un gruppetto di circa 30 atlete, 30 atlete, questo è il tratto in cui adesso si stanno un po' studiando davanti, e questo comportamento dell'atlete di testa potrebbe consentire di un giungimento. Allora, vedremo se dietro ora hanno la forza per andare a chiudere ancora, per andare a ricucire, ormai ci siamo, si stanno portando, vediamo davanti anche maglie della Vaiano Fondriest, c'è anche Marta Bastianelli nel gruppo delle migliori, insomma sono tutte quante lì pronte ad andare a giocarsi la volata conclusiva, davvero un finale spettacolare, si sta preparando per questa prima tappa di 133 chilometri, Gigi. Sì, questo è il momento decisivo, vediamo in testa, stanno dando il tutto per tutto, tutto per tutto, siamo a circa un chilometro dall'arrivo. E allora, Anna Trevisi, Lara Vieceli, Maria Giulia Confalonieri, Iris Lappendel della Bigla, insomma, grandi nomi lì davanti, pronti a giocarsi questa vittoria, una vittoria importante, poi lo ricordiamo, in ballo potrebbe esserci anche la maglia rosa, perché il distacco, come abbiamo detto dopo il cronoprologo, è davvero minimo, e poi lo ricordiamo, ci sono anche gli abboni 10, 6 e 4, quindi può davvero succedere tutto. Sì, perché sono importantissimi questi abboni, dal momento che si dà accordo domani c'è una tappa più corta, ma più dura, più dura dal momento, che presenta un Gran Premio della Montagna importante, centro di Valgiano, 330 metri d'altitudine, una serie di 4 chilometri, con pendenze dall'8 al 10%, intanto siamo proprio... Anche Soraya Paladini, Irene Bittonelli, gruppo delle migliori, le due vediamo anche almeno un paio di maglie, della Valgiano Fondrest, una di queste è di Marta Bastianelli, ma c'è anche Rasa, lei Levite, insomma, davvero atlete importanti, pronte ad andare a giocarci questa finale, questo sprint finale, le vedete stanno adesso allungandosi molto, stanno preparando l'epilogo di questa prima tappa. Sì, ci sono le atlete proprio della Impi Sottoli Giusfredi, penso che stiano lavorando per la compagna di squadra Anna Trevisi, una delle atlete più veloci, che fanno parte del gruppo, ma questo momento di controllo da parte del gruppetto delle 30 atlete ha consentito proprio il ritorno dell'altra parte del gruppo, per cui sono circa 70 le atlete che si giocano la vittoria di questa prima tappa di 133 chilometri. E allora, vedete, adesso stanno cercando di occupare tutta la sede stradale, come diceva Gigi, c'è stato questo ricompattamento, davanti ci sono tutte le migliori, abbiamo detto pronte a giocarsi lo sprint, Anna Trevisi, poi c'è ovviamente Annemich Van Vleuten, abbiamo visto anche Edwish Pitel, che è sicuramente una sorta di monumento. Intanto attenzione, perché questa è la curva che introduce al rettilino conclusivo, siamo ai 300 metri, adesso davanti, allora vediamo, sta cercando di venire fuori Marta Bastianelli, con la divisa della Vaiano-Fondriest, Anna Trevisi, e lì poi vediamo anche Maria Giulia con Falloneri, con la sua maglia, beh anche attenzione, un testa a testa tra la Confalloneri e la Bastianelli, Bastianelli in testa, attenzione Bastianelli, 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 va Marta Bastianelli a concludere in prima posizione, e dopo diversi podi riesce a tornare alla vittoria, e l'ex campionessa mondiale 2007 di Stoccarda, Marta Bastianelli, che precede Daiva Tuzlaite e Maria Giulia con Falloneri in maglia bianca. Beh, è una grandissima vittoria, l'ha meritata, l'ha meritata perché quest'anno si sono visti segnali importantissimi da parte dell'ex campionessa del mondo, un'atleta fortissima, fortissima nelle categorie giovanili, questa grandissima vittoria da appena vent'anni a Stoccarda, battendo tra le tanti atlete Mariano Vosse, che era grande favorita, poi c'è stato un po' di smarrimento, tantissima sfortuna, tante cadute, per cui un'atleta ritrovata, sicuramente questa è una grande notizia per Dino Salvoldi. E adesso andiamo ad ascoltare due delle protagoniste, Marta Bastianelli e Maria Giulia con Fallonieri. Sì, dopo due piazzamenti, due secondi posti, quest'anno arriva la vittoria a casa della squadra, ovvero in Toscana, quindi sono felice per loro di avergli dato una grande soddisfazione, ma soprattutto per me, perché questo è il coronamento di tanti sacrifici che ho fatto quest'anno, con una bambina piccola di un anno e mezzo e per questo che ringrazio la mia famiglia, mio marito Roberto De Patre e tutta la sua famiglia, che oggi era presente, quindi sono felice anche di avergli dato una bella emozione. Senti, domani sarà importante, ovviamente siete tutte lì, hai chance al pari delle migliori, ma volgiamo lo sguardo un po' più là, arriva a Richmond, ormai ci siamo, credo che per te sia un appuntamento estremamente importante. Sì, sono felice di star bene, per cui sono felice anche di poter dare una grande mano alle mie compagne, perché insomma in queste gare ce n'è sempre bisogno e siamo lì tutte a disposizione di quella che sarà la più forte squadra, per cui mi auguro di poter far bene e di essere utile a loro. Diciamo che questa settimana non è stata delle migliori dopo l'Olanda, un po' fiacca forse, per il mondiale non penso di essere tale prescelta, le prescelte, però dai, oggi mi è andata bene, non avevo delle grandi sensazioni, ma alla fine siamo rimaste in poche sulla salita, ho provato a buttarmi in volata, mi dispiace che mi sia fuggita la maglia per due secondi, però dai, va bene così, mi sono tenuta la maglia bianca, è una soddisfazione anche questa. Domani c'è ancora una possibilità importante, no? Eh, domani è dura. Siete in tante. Ci sono quattro volte la salitella che c'era oggi, più matraia, bisogna tenere duro, penso che sarà duro stare con le prime, però ci provo, poi se si arriva in volata posso dire la mia, se no io provo a dar tutto. E allora Gigi, questo è il podio, vedete la solita sfilata delle maglie, domani giornata conclusiva per questo Giro di Toscana. Sì, ci sono questi 96 chilometri che presentano quattro gran premi della montagna, ripetuto quattro volte il gran premi della montagna che abbiamo visto oggi, quindi una salita pedalabile, ma l'ultimo insidioso. Visto in quest'ultimo gran premi della montagna, posto ad appena otto chilometri dall'arrivo, si deciderà la corsa. È veramente tutto, grazie a Gigi Sgarbozza, la più cordiale buonasera da Pier Giorgio Severini, la linea torna alla rete.